Il maltempo l'ha fatta da padrone e dopo Pescara Carpi ha costretto al rinvio altre tre partite, Cesena-Provercelli, Bari-Spezia e Perugia-Brescia. I risultati del turno infrasettimanale, oltre a rilanciare le ambizioni del Parma di D'Aversa, hanno segnato l'avvicinamento del Palermo al duo di testa Empoli e Fosinone, l'iscrizione alla lotta per i play-off del Foggia, Corsaro a Novara, la crisi della Sarnitana, anche se la società ha rinnovato la fiducia al tecnico Colantuono e in particolare l'ascesa del Cittadella, che con il blitz di ieri sera a Chiavari contro la Virtustentella, ora è a meno 5 dal secondo posto, proprio quella Cittadella che sabato prossimo riceverà il Pescara. I biancazzurri se la vedranno con una squadra in un buon momento, ma curiosamente il Cittadella nel girone di ritorno ha fatto l'unplay lontano da casa, quattro trasferte, quattro vittorie. In casa invece due sconfitte e un pari con l'Empoli, con una vittoria sfumata al photo finish. Così il tecnico venturato dopo la sofferta vittoria in terra Ligure. Ma dobbiamo crescere, quando facciamo prestazioni come abbiamo fatto oggi, il primo tempo che abbiamo tenuto in mano la partita, bisogna riuscire a farla anche il secondo. Bisogna riuscire a mantenere l'equilibrio e la continuità dei risultati sia in casa che fuori, quindi abbiamo sicuramente dei margini su cui lavorare e per crescere. Però fino ad oggi ogni tanto abbiamo sbandato, adesso diventa il momento decisivo se vogliamo provare a rimanerci lì. Il Delfino lavorerà al ritmo di sedute singole, pomeridiana oggi, mattutine, domani e la rifinitura di dopodomani. Allenamenti nei quali Zeman dovrà sciogliere alcuni dubbi. Intanto in difesa la sostituzione di Perrotta, che non avendo scontato la squalifica col Carpi, salterà il match del tombolato. Il favorito è Gravillon, anche se la candidatura di coda non è da scartare. A centrocampo, stanti problemi di proietti, certi di un posto saranno Carraro e Brugman, ballottaggio poi tra Mamadou, Koulibaly e Luca Valzania, con quest'ultimo che è un ex della partita e potrebbe riprendersi il posto da titolare. I dubbi principali sono in attacco, la modifica del tridente intero non ha sortito effetti tangibili, Zeman potrebbe ridare spazio a Pettinari e Mancuso, anche se Capone ha avuto spunti interessanti. Falco invece, che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, potrebbe partire dalla panchina.